Sono state presentate presso il Comune di Pordenone due importanti rassegne estive che avranno luogo nel Parco di San Valentino dal 30 giugno al 23 luglio. Pordenone Live, dedicato principalmente ai più giovani, con grandi nomi della scena rap e hip hop nazionale e Pordenone Blues Festival, che ospiterà nomi celebri della musica internazionale. Ormai quotidianamente si succedono conferenze stampa per presentare grandi eventi in città. Questa è la dimostrazione del dinamismo e della capacità organizzativa delle nostre associazioni che insieme al Comune stanno portando eventi importantissimi in città. L'obiettivo è quello di garantire a chi risiede a Pordenone di poter godere di un'offerta culturale amplissima che va dalle mostre ai festival letterari piuttosto che a quelle musicali e dall'altro lato calamitare l'attenzione e portare persone da fuori città per creare anche un indotto economico legato alla cultura. Questi concerti rappresentano la parte nazionale e internazionale del grande cartellone dell'estate a Pordenone. Non solo per ascoltare grande musica ma anche per rendere Pordenone attrattiva richiamando non solo i pordenonesi ma anche chi viene da fuori, anche dall'estero e anche dal vicino Veneto. Ecco perché abbiamo preparato per chi ci viene a trovare da fuori dei pacchetti turistici, delle agevolazioni. Penso per esempio alle agevolazioni sui biglietti dei concerti perché si ferma a dormire in albergo ma anche dei veri e propri pacchetti per visitare la città tramite delle visite guidate al territorio. Ecco io credo che con quest'estate, con queste grandi offerte musicali, Pordenone può fare un salto di qualità e porsi come punto di riferimento assoluto per i grandi eventi musicali e in generale per gli eventi. Quest'anno presentiamo per la prima volta Pordenone Live, ci saranno 5 serate con artisti rap, trap, pop che avranno un pubblico molto molto giovane dai 13-14 anni fino al massimo 30-35 e che abbiamo curato assieme al comune puntando su dei nomi importanti che porti proprio un tipo di pubblico diverso che di solito non c'è in città e non c'è neanche in Friuli. Abbiamo provato ad andare un po' avanti con i tempi e portare quello che la gente piace anche se magari noi non li conosciamo ma i ragazzi li conoscono. Abbiamo degli artisti di livello di fama mondiale, vorrei ricordare King Fish che è un chiterista di 22 anni che è molto blasonato in America, Winter Strouble che è un gruppo americano che io ho visto con Gihu e ho voluto fortemente anche a Pordenone, Jeff Beck, questo personaggio non ha bisogno neanche di presentazione, è uno dei primi 5 chitarristi al mondo di sempre che viene con un ospite particolare Johnny Depp, poi Fantastic Negritto, con lui ci saranno Sugar Blue e Grayson Caps, e poi il sabato con i Darkness e da ieri sera abbiamo anche il nostro cast The Amazons, un gruppo che è in classifica in Inghilterra in questo momento e ha due ite su Virgin Radio e per la prima volta abbiamo un gruppo di Pordenone, gli Overlaps, che è un gruppo di livello internazionale che veramente regge il confronto con i gruppi di massimo livello europei.